Ok, possiamo iniziare? Abbiamo sentito dei rumori di là, ma di là non c'è nessuno, almeno che noi possiamo vedere. Ci sei tu? Fai un altro rumore, per favore. Ecco, è qua che ti dicevo io, questa scala qua. Qua, è quella dove eri prima che eri con le cuffie, c'è una sentinella che sale su. Sì, è qui. Vedrai se facciamo la sessione fatta bene, poi sentiremo qualcosa a muoversi nelle scala. Sì. Nel paese di Davide, dove c'è la sua tomba, che adesso andremo a visitare. Abbiamo chiesto di farsi sentire. Sì. 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 C'è qualcuno che vuole comunicare con noi? Vado? Vai. Prigioni maschili. Sessione numero 5. Sì. 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 Una bella periodolia su quello specchio con l'infrarossi. Una bella periodolia sull'infrarossi. Una bella periodolia sull'infrarossi. Una bella periodolia sull'infrarossi. E' successa questa cosa. Che tu lo stavi giocando con questa pistola o la fucile e che sbaglio è partito un colpo. E' vero? Se sì. Per fare un volore o per parlare al registruttore per piacere. Qui è una delle zone dove l'ultima volta abbiamo avuto una bella dimostrazione. Abbiamo trovato sulla gamba di Beatrice l'impronta di una manina. Qua non ci siamo mai state. E allora il piano di sotto. Riesci a illuminare la chiesa? Sì. Vieni tu quando? Adesso quando vuoi sto filmando. Un'energia negativa? No, è un'energia molto potente. Ok. Che addirittura poter disidratare tutto. Comunque... Sì magari poi c'è qualcosa... Però per adesso o no? Comunque abbiamo fatto una bella esplorazione. Abbiamo fatto acquistare un bel po' di materiale. Sì l'esplorazione è stata bella. Il posto è bellissimo. Peccato che... Non c'è stato. Non c'è stato un bel po' di materiale. Sì. Se vuoi accompagnare il cibo, io adesso ci faccio il giro. Se vuoi un po' di materiale. Sì. 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 Sì.